E' stata rinviata al 6 dicembre la trattazione del ricorso presentato da GM rifiuti industriali contro l'affidamento per un breve periodo di tempo del servizio raccolto ai rifiuti urbani a Siracusa alla ditta Ati, Tegra, Ecologia Sud. Il Tar di Catania ha infatti rigettato la richiesta cautelare promossa dalla stessa impresa siracusana per cui l'amministrazione comunale non è rimasto altro da fare al momento che disporre una nuova proroga a brevissimo termine alla stessa GM. Il contratto comunque resterà valido quindi fino al 30 novembre nell'attesa di sottoscrivere il nuovo capitolato e quindi il nuovo contratto con la Tegra che si è giudicata alla gara cosiddetta ponte per la durata di 6 mesi per la gestione del servizio di igiene urbana. L'Igm in realtà aveva chiesto di annullare l'intera gara contestando la missione della Tegra che a sua volta ha anche presentato un ricorso incidentale chiedendo di escludere la stessa Igm e i giudici del Tribunale hanno deciso di esaminare la questione e quindi entrare nel merito ma soltanto il 6 dicembre.